Dopo le due demolizioni a Poggio Muscello, le ruspe anticipate dal proprietario della cucina del ristorante pizzeria Coca Loss, abbattuta autonomamente Irene Milisenda. Proseguono le demolizioni delle costruzioni realizzate abusivamente all'interno della zona ad Agrigento. Oggi le ruspe avrebbero dovuto abbattere il manufatto che ospita la cucina del ristorante pizzeria Coca Loss, ma a loro arrivo il lavoro era già stato eseguito. Sì, perché il proprietario del ristorante ha abbattuto autonomamente la cucina del suo esercizio commerciale. Quando gli uomini del corpo forestale sono giunti sul posto, insieme alle ruspe, infatti non hanno potuto fare altro che pendere atto che il fabbricato era già a terra, così come prescriveva la sentenza. Il denaro risparmiato da questa demolizione sarà utilizzato per altri interventi dello stesso tipo e potrebbe quindi aumentare la lista delle otto opere da buttar giù. Nei giorni precedenti le ruspe incaricate dagli uffici comunali, che hanno stilato la lista dopo le lettere di diffida del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, hanno già demolito un muretto e un'ovile incontrata a Poggio Muscello, dove gli addetti ai lavori, anche oggi, stanno completando i lavori di bonifica. Ricordiamo che la lista delle demolizioni prevede il 3 settembre un magazzino incontrato a Cugnovela e poi ancora il 7 settembre le ruspe saranno incontrate a Maddalusa, per abbattere la billetta abitata da una famiglia di 5 persone. E il 10 settembre inizieranno i lavori in Via Frodite, dove è prevista l'eliminazione di un vecchio teatro all'interno di un ristorante attualmente chiuso.